Ok, fra c'è una mano mola? Da sotto Ah sì Sì, segniamoli Cosa avete intenzione di fare? Adesso è pompa, lascate il fiocco, lascate il fiocco Rotta di collisione, rotta di collisione Io pure l'aria di noi, pure a sinistra, ma mettiamo Vai, controvira, attenzione Aiuto Allargata, allargata, allargata Babbo, perché si è sentito? Ah, devo toccare Ciao Ciao Babbo, questo è il video più noioso di tutto il mondo È tutto nero, ci credo Ah, non l'hai capito L'altro gruppetto qua, gli amici Allora, dobbiamo prendere un'andacera di polpa Io non dico niente, dovete regolare questa vela perché si riempie Ah, ecco Ma forse ho un tavolo Cuola, veda Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda Guarda, guarda Guarda Guarda, guarda 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 Allargata Allargate le vene Passi a destra Nicaro Eدا Da uguale Perfetto Adesso comincio a stringere il vento Stringete il vento Stringete le vene Stringete le vene Stringete il vene Dai Non gehen da troppo addosso Più a destra Stringete le vene Stringete le vene Stringete le vene Adesso pronti a la vira, 3, 2, 1, virate, sgancia e prendi di lì, prendi di lì, veloce Altea, adesso aspetta, 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 ora, cazza Altea, cazza Altea, non ti interrompi su questi viraggi, non puoi fermarti così, vai, cazzalo, cazzalo, ora, non lo riuscirai mai più Altea, devi farlo subito, che fai, dormi, devi farlo subito, allora fallo subito di bloccarlo, di bloccarlo, si è dormito Altea, cazzate, ok, adesso metto l'intraverso, guardate, la toranda va bene Nicolas, blocco, guardate i filetti, guardate i filetti, Altea filetti, va bene o va male? Va male, va male, allora lasca più, bloccalo, ok, questa andatura non è l'ideale per questa barca, si fa più acqua, però si fa più velocità, l'anno scorso se ti fa più, se non è il cavatico gigante, allora, poggia un pochino, il gioco non va bene, cazza Altea, non ne ha posizione per cazzare, allora, se tu devi cazzare, ti metti in posizione cazzi, la posizione che vuoi far forza, se sei debole, no, sta più vicino, ancora più vicino, le mani qui, va bene così, così fai forza, va bene, cazzano più di più Altea, non devi sganciarlo, devi tirarlo, è diverso, cazzare vuol dire che devi tirarlo, non che lo devi sganciarlo, no, lo cazzi senza sganciarlo, troppo, Altea sgancia, guardate i filetti, i filetti, i filetti vanno bene, non toccate questo fiocco, va bene così, Nicholas, non perdono questo fiocco, va bene, va bene, va bene, va benissimo, adesso, io li voglio infilare però, allora, quando ve la chiamo bolina feroce, eh, aspetta, 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 non le sai, non lo schiaffo vuoto, attenzione che loro manovrano, ok, vai un po' più di bolina, a posto, seguitelo con le vele, va bene, va bene, guarda, un pochino più là, va bene, senti come prende via, va bene rotta e a presto di tre situazioni, farsi la poppa, non i prua, che sennò ti schi, chiamo, senti che questo passo è facile a fare? Sì, seguo col fiocco, Sofia, anche a te, aiutate, non li prendi? va bene, non li prendi, va bene, e 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 pronti alla vira quando ve lo dico allora tu devi lasciare tu devi lasciare e Sofia devi cazzare dall'altra parte prendi l'altra cima Sofia l'altra 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 sgancia Altea vai vira ok prima che diventi duro prima che diventi duro poi si sono in corretta brava ok va bene bloccalo bloccalo subito Sofia non ci dormire Sofia che sennò è duro come la fame unicolo non ci dormire Sofia che sennò dopo non ce la fai diventa duro stai addosso stai addosso stai addosso con del mamma io non lo tiro più quello qui perchè non ci riesco vِru rarco 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 io andavo a tagliarlo un pochino ma Ok, va bene, falla camminare, falla camminare! Allora, questo è il traverso, le vede non vanno bene, cambiamo le vede, sceglie! Cambiate le vede, allargate il traverso! Ma io le tieni il traverso, sennò vedo che cambia tutte le vede, cambia il volo! Sennò vedo! Sennò, a poppa mi raccomando che non si sa come potrebbero reagire, a poppa bene o male non succede niente! Ma mamma non hai chiamato! Allora, controllate sempre i fidetti! Passa a poppa è lì, se passa a dritta? Come? Se passa a sinistra è a dritta! Sempre a destra! Quando vedi così, il purua non conviene perché li metti capito casino! Dopo loro non hanno perche fare, non sai come reagiscono, creano una situazione di pericolo! Ok, se tu poggi dovete aprire le vede, se poggi aprite le vede, apri le vede anche tu! Guarda i filetti, se poggi aprite le vede! Sì, va bene, ma anche tu devi farlo! No, aprire! Sì, sì, è cambiato il vento! Ah sì, è cambiato un po' il vento! Guarda, è vero! Sofia, guarda i filetti! Sì, devi cazzare! E io non ho sensibilità, ti dico ma non vedo, non ho gli occhi, capito? Faccio quello che posso! Facciamo la barba, vai! Vai, vai, vai! Sento bene che stia seduta, che ti dà un po' le quelle! Almeno tienti a queste! Io mi tengo a qualcosa, tu che ti tieni? Ah, le mie gambe, ma sono grandi! Non sei grande! Grazie. questa. Anche potresti dare questa ad Alessandro. Ad Alessandro? Ad Alessandro prendi questa telecamera. Previla! Di quattro! Lasca, lasca, lasca! Su! Anche a sforgiti! Anche tu! Mi sono fiasco a farino. Già è scesa. Come va equipaggio? Allora, andiamo un po' paralleli a loro. Calza le vele. Allora... Fabiano, fai la virata prima di entrare su questa zona qua di vento sporco. Loro hanno virato, guarda. Aspetta, facciamo di passare. Poggia, poggia, poggia! Ok. Vila di a poppa. Ora prendi velocità, mettiti di bolina stretta. Cazza, marica al gioco. Vai! Mettiamo a segno le vele. Ora quando vuoi. Pronti. Viro. Vai, deciso. Allora, poggia, 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 che ancora non abbiamo preso le mura. Cazza, marica. Allè, vai! Tutta Gallara. All'inseguimento. Verso il tramonto. Un po' se tramonterò io. Riccardo, vieni qua. In mezzo. Allora. Sì, come siamo? Guarda, Fabiano, guarda, siamo di bolina stretta. Sì. No, puoi orzare tanto. Ehi. Chi l'è? Qui l'è? Qui l'è? Qui l'è? Qui l'è? Qui l'è? Ah, se lo sappia. Sì. 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 Niente tempo. Cazzo, Ilaria, falla a stendere stava. Cazzo, Ilaria, falla a stendere sta barca. forza un pò, va piano vai di pulire la fresca anzi, spoggia, va, spoggia, vai al traverso lì lascate in periodo le vele vai Altea, vai! allora, Fabiano poggia guarda anche che fanno loro e poggiamo, c'è sempre il colgumone, no? e facciamo la battuta facciamoli passare avanti e poi poggiamo dietro la sua poppa e facciamo la battuta vai Sofia ha, 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 ha Giangiri vuoi la macchina? Allora adesso noi dobbiamo fare la battuta ok allora adesso facciamoli passare tu vai dritto così ok va la fanno prima loro benissimo allora adesso facciamo la battuta vai poggia fin quando vedi che i filetti vanno in avanti tu lasca la randa perché quando si poggia si lascano le vele guardate i filetti ok non esagerare quando il fiocco si sventa ecco basta siamo in fil di ruota quindi pronti alla battuta pronti tu continua adesso appoggiare e dici randa al centro quindi in area veloce randa al centro vai salta di qua Fabiano lasca randa ok basta Fabiano così benissimo ok allora tutto questo per fare una manovra ulteriore adesso Fabiano mettiti di bolina larga queste mura che prendiamo una mano in terza roli tu Riccardo allora bolina larga allora la mano in terza roli se c'è troppo vento cominciamo la vela allora questa è la drizza della randa e bisogna tirarla giù fino a quella schiena lì allora lasca tutta la randa lasca tutta la randa non vai più chiaro la drizza lasca tutta la randa vai più fuori la larga allora la lavita sìsì ho visto l'ho visto morderica lasca e falla scendere dolcemente e uno per l'altro potta troppo un movimento qui la tra 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 La leghiamo sotto, la leghiamo davanti, e adesso marica cazzamorri, ci ho fatto un nodo piano, il punto di nuore è a posto, bravissima. Attenta che passo, e adesso le borrose che le abbiamo messe in funzione, guardate che buona vita, ci abbiamo ammattato qua, guardate per rimettere a segno la tua parte. E adesso marica dovete fare i nodi e i mattavioni, che si fa il nodo piano, quindi prima questa è sotto, adesso questa è sotto. Zac, in modo piano, in modo piano, prima questa qua la metto sotto, poi questa a destra la metto sopra, in modo piano. Puoi ricazzare la randa e l'aria, lavorare questa altematazione, e abbiamo ridotto la vela, e su questo caso sopra. Quindi, questa a destra la metto sotto, e allora dopo la destra la metto sotto. In modo piano, altrimenti si inverte, diventa una merda pancia. Ok, facciamo ridotto la vela, vai, ributtiamoci di polina, vediamo se l'effetto c'è stato. E' chiaro, basta, ti metti polina e stai anche girando, guarda ciò. Lascio quando io vedo le mie spalle, voglio regare il piede. E poi tirate. Anica vieni di qua. Quindi, cazza con l'altra scotta. Brava Ilaria a posto. Volevo vedere se eravate brutta. Si, tirare! Allora pensiamo di poppa qua di piena, che è il suo arco, se mi sento qua avanti, ma il casco è un po' che ci vediamo alla porta, in Italia, la poppa, e le vanno aperte, perché in questo modo che noi la vogliamo è la tariffa di faccia. Sì, scoperta. Allora, avete visto che per come è armata questa marca qua, conviene prendere la marca di Piazzaroli pure a sinistra, perché si lavora meglio, perché l'uomo ce l'ho qua, l'adrezza ce l'ho di là, guarda in tutti eh. Ok, allora siamo di poppa, facciamo una strambata, e a chi c'è tutti i sassi sono? Allora ce l'ha frantita l'altro, come fai? Allora, non è che stai affizzicata in cartellina. Allora, che stai affizzicata in cartellina, allora, la scarica, la scartellina. E' più l'arco di usci perché siamo in fil di ruota, vedete se è sgonfiato, quindi è il momento della battuta. Vai, pronti alla battuta. Randa il cibo. Randa al centro, veloce. Saltate sull'altra panca. Anche tu, in cartellina, ma piano, bravo, continua. Lasca tutta la randa. Molto bene, molto bene. E poi il moniere ci dice se vuole andare attraverso, all'asco, per fare un po'. Calza... Vieni qui e calza di fuori. Ok, vedi? Bisogna sempre, il fiocco si usa, sempre la scorta quella sotto vento. Vento, finito le nostre espressioni. Quella è sotto vento, questa è sotto vento. Benissimo. Oh, chiaramente abbiamo fatto una manutenzione che la sciocca, la sciocca, la sciocca, la sciocca, la sciocca, libera la base, e poi, questa è la patrizza, potente, che è la vela che mi porta, questa volta, quindi deve essere sventata, in pebolina larga, tutta sventata. Oh, adesso, volevo provare un po' la manovra, ma questo non picciamo, ma se posso, se ci rincorano un'aria. Allora... Eh, tra poco, facciamo una virata un po' particolare. in un po' particolare. Ok. Allora, facciamo una virata Fabiano, quindi metti il pebolina stretta. La virata e prendiamo l'andatura chiamata panna. Viriamo in panna. Allora, come si fa la virata in panna? Oh, basta c'è poppa Giangi! Poggia, poggia! Allora vai! Ok. Allora, aspetta! Allora, aspetta! Adio! 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 esercizio, seguimi col fiore! Sei pronta Sofia? Sarò veramente strusso! Quindi, preparati! Seguimi! 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 Ok! Bravo! Bravo! Seguimi! Bravo! Seguimi! Bravo! Spia! Bravo! Non è capito! Non è capito! Seguimi! Seguimi! Grazie! Grazie a tutti